Mi scherzavo con il mio collega Leonardo Davenia perché c'è davvero da togliersi il cappello davanti alla prestazione di questa squadra davanti soprattutto al carattere che lei ha trasmesso, abbiamo detto l'autentico fuoriclasse di questo Avellino. No, no, il fuoriclasse è la squadra e sono i ragazzi. Io ho soltanto dato delle giocate, ho dato la mia voglia, la mia cattiveria agonistica parlando. Poi ci sono delle strutture di gioco dove loro con le loro qualità le hanno messe in mostra. Io faccio l'allenatore, cerco in tutte le maniere di migliorare questi ragazzi, di dare anche una sicurezza, abbiamo bisogno anche di una certa sicurezza e devo dire che questo lo stiamo avendo, però questo non ci toglie che dobbiamo rimanere con i piedi per terra e dobbiamo salire con la famosa montagna e che è sempre dura salire. Oggi è stata una grandissima prestazione grazie anche all'aiuto del pubblico che ci ha trascinato. Poi l'ingresso di Bellone ha cambiato nettamente anche la gara ma non avevo dubbi su questo. Il mister Avellino però sta diventando una squadra cinica, grintosa e perché no, anche bella da vedere, soprattutto con quella Moretti che ispira gioco davvero sotto tutti i punti di vista. C'è stata anche la standing ovation dell'appartene, abbiamo detto, si riserva davvero a pochi calciatori. Sono contento perché Federico è un giocatore straordinario, però ancora non è in condizione. Credo che è un giocatore che ci voleva, ma devo dire anche la grande prestazione di Paghera, di D'Angelo, di tutti, al di là di questo. E poi le strutture di gioco, come ha detto lei. Il gioco è fondamentale, senza quello non si va avanti. Credo che nella fase difensiva siamo nettamente migliorati, stiamo lavorando anche su questo. Credo che siamo su una strada giusta. 12 punti in 6 giornate e finalmente usciamo da quella zona rossa della classifica. E' brutta, era brutta e deve diventare ancora più bella. Noi, però con molta umiltà, oggi c'è stata moltissima umiltà e applicazione su quello che io ho chiesto. E loro l'hanno fatto. Adesso ce la godiamo sta partita, ma da domani iniziamo a pensare alla prossima. Le passo il collega Leonardo dallo studio. Complimenti e grazie soprattutto per questa bella ed importante vittoria. Le chiedo come mai sul dischetto si è presentato Fabrizio Paghera. Naturalmente ci fa piacere che sia riuscito a trasformare il rigore. E poi le chiedo, Richard Lasic ormai si è ritagliato il suo posto quasi ideale sulla fascia a destra. Per lei è ancora una volta un merito che dobbiamo darle comunque? No, devo dire che il merito vanno loro, come ho detto. Perché cercano di fare quello che chiedo e lo stanno facendo bene. Avevano bisogno, come ho detto prima, anche di fiducia. Io credo che Lasic è un giocatore che ha profondità, che può giocare in ampiezza, c'è corsa. E quello è un ruolo dove lui si sta ritagliando, come ha giustamente detto lei, in maniera molto positiva. E il discorso onestamente era Ardemagni. Poi chi se l'ha sentito Fabrizio era battuto. C'erano tre trigoriste, lui, Daniele e Ardemagni. Chi se l'ha sentito è attirato e ha fatto bene. E quello è sempre l'unica cosa che conta. Mister, ancora una volta i risultati di questa giornata confermano un campionato di Serie B sempre più vivo. Con risultati che per fortuna in questa giornata sorridono all'Avellino con una classifica che ora veramente comincia ad avere sembianze positive per i colori bianco-verdi. Sesto risultato utile consecutivo. Ora si va a Cittadella. Che tipo di Avellino? Naturalmente c'è ancora tutta la settimana per lavorarci. Però ancora un'altra tappa importante per questa scalata. Sì, un'etapa importante, l'umiltà. Un'etapa quella, come ha detto lei, la Serie B è un lungo cammino, è una lunga corsa e c'è una lunga montagna da scalare. Con fatica si sta scalando, ci stiamo ritagliando dei risultati importanti. Ma questo non ci deve distogliere dalla mente che senza quella determinazione, cattiveria, non si possono ottenere risultati. Cattiveria, agonistica. Però devo dire che siamo su una strada in salita comunque piacevole. Una salita con un po' di fatica ma è piacevole.